Dove siamo, Rosalba Piccini? Allora, cara Silvia, siamo in un posto irrequieto come me. Apparentemente essenziale, ma complicato. Infatti questo luogo racconta tutto e niente, ma racconta la mia vita. Insomma, ho cercato di concentrare all'interno di questo posto magico tutte le mie grandi passioni. Potta fiori, giusto? Sì, potta fiori. Questo nome da dove viene? Dopo una lunghissima ricerca, perché volevo mantenere la parola fiori che raccontava le mie esperienze di vita in ambito floreale, mi serviva una componente, quella parola in più che chiudeva il cerchio. Per cui pota, che è l'intercalare bergamasco, che contraddistingue la mia parlata. Infatti a Bergamo si dice pota qui, pota la, pota tutto. E mi sembrava giusto dare un contenuto, un contenitore alla parola fiori. Per cui pota flowers, contenitore dei fiori. Insomma, il contenitore è da dove nasce la vita. E questo locale non è solo un ristorante, non è solo un negozio dove si possono comprare delle bellissime fiori e composizioni floreare, non è solo un posto dove si può ascoltare musica. Che cos'è? È tutto insieme? È qualcosa di più come te, no? Ecco, infatti, io proprio in questo periodo della mia vita sto pensando a quanto io sia complicata e complessa, ma probabilmente libera, perché ho scelto di assecondare tutte le mie passioni. E questo luogo mi rappresenta come tutti i luoghi che vivo e che faccio vivere, perché non mi voglio proprio... Mi voglio donare. Ci si dona solo attraverso la propria arte e la propria essenza. Poi, ecco, non si può piacere a tutti, ma può funzionare perché i contenuti sono speciali e veri. E ne hai aggiunto un altro di cui adesso non spoileriamo subito, ma siamo sedute su qualcosa che sembra una cosa, ma è un'altra. Diciamo dov'è proprio fisicamente Potafiori? Potafiori si trova in via Salasco 17 a Milano, in zona Bocconi, Porta Romana. Mi veniva in mente, ma mi hai già in parte risposto, tante volte, ci rispecchio anch'io, no? Si hanno varie passioni e capita, diciamo, che si mettano tutte insieme e una volta, solo dopo averle messe tutte insieme, uno dice, ah, ma c'è una quadra, no? Non è il tuo intento quello di unire i puntini, ma alla fine magari succede, perché prendi una strada che è la tua, quindi magari ti porta là e solo dopo dici, vabbè, ma dovevo arrivare qua. Ma è proprio questo stato il mio percorso, non ho mai pensato di mettere insieme le cose per uno studio di marketing o di promozionale, no, io volevo solamente liberare le mie passioni e provare ad unirle per renderle uniche. E alla fine ho detto, caspita, si può fare tutto, ma l'importante è crederci, per cui il filo rouge della mia vita parte dai miei capelli rossi e prosegue nel filo di pota, all'interno del quale raccontiamo tutto quello che siamo, per cui non mi fermerò ai fiori del cibo e alla musica. Abbiamo già disegnato una collezione di grembiuli, tessuti, di vasi, etichette per i nostri vini della casa, insomma, perché la passione per il bello e per la creatività non ha confini? E anche promuovere un'attività come la tua all'interno di un posto quale Potafiori, sopra un contenitore di tutto rispetto, è coraggio, coraggio, ecco, secondo me serve coraggio e soprattutto ascoltarsi. E forse siamo nel posto giusto, siamo nella città giusta. Cosa c'è di Milano in questo posto? Perché questo posto è proprio qui? Questo posto è qui perché mi ha chiamato. Come tutte le cose che faccio, è un po' come quando ci si innamora, agisci distinto con il vero istinto, c'è la pancia che ti sprona a fare quel percorso. Io vedi questo luogo che non era così, l'ho trasformato completamente e ho trovato la mia casa, perché volevo diventare grande in una grande città, in una metropoli, per cui Milano è la metropoli d'Europa per eccellenza e mi ha accolta e mi sta dando veramente grandi risultati. Ecco, di Milano qua dentro, oltre ai colori grigi, al ceppo lombardo che rappresenta la Lombardia, perché viene estratto dalle cave bergamasche per cui mi rappresenta, ma Milano ne è piena, era un connubio di storie e di ricerca, per cui la mia ricerca per il momento si è fermata qui. E nelle musiche che scegli magari, no? Perché canti anche nel tuo locale, no? Sei conosciuta anche come cantafiorista. C'è qualcosa di Milano anche nella scelta delle musiche? No, più che Milano c'è l'Italia, la musica melodica italiana che rappresenta il mio percorso musicale, perché l'adoro così tanto, perché racconta parole poetiche che io amo interpretare. Le rifaccio in chiave jazz, però adoro proprio la nostra lingua, che rappresenta veramente tanta emozione. Per cui la lingua italiana in questa città e soprattutto le canzoni d'altri tempi. Qual è la canzone, non so che dire preferita, è noioso, però che non ti annoi mai di cantare? Quindi dice, ma questa qua la canterei sotto la doccia, a colazione, a pranzo, a merenda e a cena. È un po' difficile dare una risposta perché è un po' come scegliere il mio fiore preferito. Per esempio, a me viene sempre in mente un motivo, è un pezzo di una canzone di George Michael che mi ricordo, però è bello come... te la canto, scusami, perché magari la conosci. E quella mi viene sempre in mente, ogni volta che mi viene in mente, sono contenta. Ci sono delle sigle, certe volte, che ti entrano in testa e dici, basta! Invece questa qua, fa così. In inglese è una cosa tipo, but I remember this every other kiss that you ever gave, long as we both live. E va avanti. Ah, ho capito quello. Sì, ho capito quello. Certo. E quella lì, se ce l'ho in mente, non la caccio via. Se c'è, va avanti, non la cavalco. Invece nella mia testa ci sono le canzoni da interpretare. A volte prediligo quelle sofferte, forse perché io dentro lo sono particolarmente, nel senso perché sono energica, colorata, positiva, ma anche dentro di me esistono i lati scuri, come tutti ne abbiamo. E le canzoni che mi riescono meglio, che sento mie, sono quelle che parlano d'amore, a volte di sofferenza, di rinascita, di introspezione. Per cui canzoni che non smettere mai di cantare, per esempio c'è Vedrai, Vedrai di Luigi Tenco, anche se è molto scura per certi versi, però mi libera perché mi fa sperare in un futuro migliore. Oppure il Paradiso di Patti Bravo, che ultimamente canto spesso. Com'è che fa? Il Paradiso tu vivrai, se tu scopri quel che hai, non ti accorgi che io amo già te. Cioè il fatto di amarsi e di riscoprirsi per diventare migliori. Non è solo in chiave amorosa, ma anche in chiave proprio personale. Ti descrive, no? Per quello che hai detto. E se dovessi dirci dei posti che raccontano Milano, come il tuo, cosa ti viene in mente? Quali posti ti vengono in mente? Dei posti del cuore, dei posti dove ti senti a Milano? Un posto dove mi sento in giro per il mondo, soprattutto la Fondazione Prada, perché è meraviglioso, perché ha dei contenuti che mi fanno impazzire. Io quando vado là, sia a cena che a vedere le mostre, io sto, godo. Cioè proprio sto bene, sono nel mio abitato naturale, cioè credo che il signor Bertelli e la signora Miuccia siano dei geni e gli intellettuali della moda italiana, oltre che di un luogo magico che fino a poco tempo fa era inaspettato per Milano e che è riuscito a portarci veramente altrove. Un altro posto che sta nel mio cuore è che ho frequentato molto appena arrivata a Milano, perché da Bergamasca che arrivi a Milano sembrava di essere a New York e mi sembrava tutto strano. E non capivo, cioè mi ha portata al bar basso, che all'inizio ho detto, madonna se è vecchio sto posto, madonna cos'è sta, perché il provinciale fa un po' fatica. Ma io ho poi iniziato ad amarlo con tutta me stessa, per la storia che riesci ancora a raccontare, per i contenuti, per i camerieri un po' arrabbiati, un po' così scostanti. Anche l'insegna è bella. Sì, per Maurizio, il proprietario che è un personaggio fantastico, che è un fumetto, l'insegna, il movimento durante le occasioni di festa, insomma, è talmente trasversale che riunisce tutto quello che sta nel mio cuore, c'è l'arte. Io amo l'arte, il mettermi in discussione, lì c'è tutto. Per cui il ricordo e il rispetto di altri tempi, la contemporaneità, gente meravigliosa che va e che viene, ecco, mi piace davanti. Questi sono due posti che proprio mi fanno stare bene. Dove siamo seduti? Aspetta che adesso ci mettiamo un po' comodi. Dove siamo seduti? Ecco, no, perché io sono comoda così. Lei è comoda cos'ha, ma me lo insegnerà, perché io faccio un po' fatica, sono un po' costretta nel mio corpo. Allora, questo è una scatola magica, come la chiamo io, perché tutto inizia nell'affrontare la morte in una misura diversa. Questa è una bara, questa è una scatola, come la chiamo io, che rappresenta un po' il mio funerale. Insomma, non voglio morire nella tristezza e soprattutto non voglio morire in quella scatola brutta. Le ho disegnate, questa è una tra le tante, questo è il colore più acceso che per assurdo piace di più, che può essere customizzata, infatti all'interno abbiamo tutti questi cuscini colorati meravigliosi. L'idea di base è del prendermi cura delle persone, non solo di me stessa, che nasce dal mio desiderio di morire bene e nella bellezza, ma soprattutto di portare un po' di luce e di speranza nel cuore degli altri, attraverso una cura di tutto quello che potrebbe essere un funerale, partendo dal contenitore, alla musica di qualità, ai fiori di qualità, a non prenderci in giro, a non subire il ricatto dell'urgenza, ma a poter scegliere qualcosa di bello per noi, perché la morte fa parte della vita. Siamo qua anche per raccontarla, perché è fondamentale non dimenticare che prima o poi ci accadrà. E perché non pensarci prima? È il tema che scordiamo più di frequente. Perché ci fa paura. È il tema, anche perché è tutto un equilibrio su quella... Sì, però io da quando ho iniziato a parlarne, ormai sono anni che studio questo progetto, che a breve partirà, ho fatto proprio tante ricerche anche dentro di me e mi sono resa conto che sono riuscita a esorcizzare la morte per come la immaginavo prima. E attraverso veramente la bellezza, la ricerca del particolare, anche in quell'occasione nel pieno rispetto del momento, perché stiamo parlando di una cosa seria, e proprio per esaltarne la bellezza e per diluire anche il ricordo, diciamo, della dipartita di questa persona, perché tante volte, presi dalla frenesia, ce ne dimentichiamo. E perché no, non ricordare questi passaggi attraverso un contenitore colorato, capisci? O dei contenuti, o una musica speciale in chiesa, una composizione originale, che però dice, wow, io vorrei morire così. Come per celebrare anche quel momento. Sì, perché intanto comunque non è che vai a fare un investimento superiore, anzi, bisogna spendere meno ma fare meglio. È un tabù, però pensarlo fa bene. Cioè avere cura, appunto, di un aspetto che è parte della vita, come dici tu, però è quella cosa che nessuno vorrebbe affrontare ma arriva. Io l'ho dovuta affrontare perché per la paura della morte, proprio ero terrorizzata di essere rinchiusa in una cassa da morto brutta. Poi ho perso mezza famiglia negli ultimi anni, mi sono resa conto di quanto sia importante, veramente, ripeto, diluire il ricordo di quella persona, e non dimenticarlo anche attraverso dei dettagli strani per certi versi. Invece no, perché comunque noi mettiamo i fiori sulla cassa, compriamo la cassa, magari facciamo un piccolo catering a casa per gli ospiti, per i parenti che arrivano da lontano, facciamo musica in chiesa. Io vorrei proprio creare un mood, sdoganare la bruttezza e veramente ricatto dell'urgenza e accontentarci di ciò che ora ci viene proposto. In bocca al lupo. Crepi il lupo e giusto. Crepi il lupo e viva il lupo. E viva il lupo. Cioè che viva il più lungo possibile, ma se mai dovesse andarsene, che finisca la sua fine all'interno di una pota love. Grazie ancora Rosalba, grazie mille. Con lo yoga? Io adesso ti guarderò, perché veramente prenderò esempio, perché te l'ho detto, dovrò imparare ad essere più leggera. E la faremo proprio qui sulla lezione. Bene, fantastico. Grazie.